trova una piccola barca abbandonata e vi sale prende a remare con tutta la forza che ha e non smette fino a che non raggiunge la riva opposta impiegandoci tutta la notte solo allora si sente al sicuro e si siede a riposare all'ombra di un fico dopo aver fatto una scorpacciata di frutti riprende il viaggio la seconda tappa e monte alto lo scala fino alla sommità dove c'è un ghiacciaio bellissimo e poiché in cima il freddo e glaciale scende velocemente lungo un sentiero lipido che conduce alla palude dei sospiri quest'ultima è un luogo umido e caldissimo occupa una superficie sterminata che solo in pochi attraversano senza morire l'acqua stagnante l'aria malsana la rendono una zona piena di pericoli tra i canneti e i giunchi infatti vive una quantità di insetti serpi bisce d'acqua e salamandre a vedere quella zona ara si sente perso pensa che non ce la farà mai a passare la palude e che morirà da lì a poco angosciato e tristissimo si mette a piangere pensando alla sua sorte ma sente in lontananza un canto delicato e vede due ombre che si muovono tra le canne gli sembra di aver già udito quella anemia e ascolta bene poi capisce e inforcando ancora una volta gli occhiali di lince riconoscere tre voraci e fameliche arpie deve scappare subito più in fretta che può ma come fare vede passare un tronco spinto da due castori e di sale sopra per non essere visto dalle arpie scivola sott'acqua rimanendo aggrappato all'albero per respirare usa una canna e in quella scomoda posizione attende di essere spinto a riva quando dopo molte ore di arriva scende a terra con un balzo e sospira di gioia ce l'ha fatta anche questa volta dalla contentezza benché stanco si mette a correre saltellando e raggiunge la rocca delle aquile che la terza tappa del suo viaggio non si ferma perché ha paura e sale di gran carriera lungo la parete occidentale una volta arrivato nei pressi della vetta ha vista una maestosa fortezza forse è quella la meta del suo viaggio finalmente si sente abbastanza al sicuro da mettersi a riposare su una radura spazzata dal vento trova una grotta calda e riparata entra si mette comodo e chiude un occhio poi l'altro e si addormenta sono giorni che non dorme così lo risveglia una dolcissima nenia che una regale fanciulla sta cantando poco lontano deve essere la regina della rocca delle aquile che è venuta a prenderlo ara si alza e le va incontro quando le arriva vicino però lei tira fuori gli artigli sta per catturarlo e farlo prigioniero ma ara lesto tira fuori la sua penna d'aquila affilatissima e la colpisce al centro del petto l'arpia con urlo lacerante cade morta sulla roccia rotolando giù per la scarpata con un sospiro di sollievo ara volge lo sguardo verso la rocca cammina lentamente fino al grande portone di legno che si apre al suo passaggio e le guardie sei topi mustiati con elmo e corazza gli fanno l'inchino e lo accompagnano dai sovrani i sovrani sono due splendidi felini di origini persiane e con un mantello lungo e striato lo stanno aspettando sono i lontani cugini di regigatta e regattone i sovrani di gattopoli che abitano nel castello dei desideri benvenuto ara sei riuscito a superare le prove dicono in coro il re e la regina dal loro trono che una cuccia d'oro con un cuscino di velluto rosso tempestato di diamanti ho faticato molto però certo lo sappiamo ma ogni cosa che si conquista è frutto di uno sforzo e tu ora sei riuscito a vincere la tristezza e la disperazione si dia inizio alle danze subito allora cominciano i festeggiamenti con balli e canti viene imbandita anche una grande tavola piena di leccornie che farebbe venire gola a chiunque e forse se passate da quelle parti li trovate ancora tutti lì a fare festa